Un pool di esperti della problematica che parlerà anche ai nostri ragazzi di quello che sta succedendo nel nostro territorio che fino a ora sembrava incontaminato, pulito e ecologicamente a posto. Ecco, proprio l'istituzione scuola, nello specifico il liceo del Capraris, punta moltissimo a parlare ai giovani, ai ragazzi, ai propri studenti al di là del curriculum scolastico anche di tematiche importanti del nostro territorio. Sì, ci teniamo tantissimo a formare dei cittadini che siano consapevoli e responsabili perché il futuro della nostra società è loro quindi il compito della scuola è di educarli anche a rispetto dell'ambiente oltre che ovviamente a rispetto delle regole. Sindaco, parlare di ambiente, di tutela, di territorio ai giovani è fondamentale? Sì, sicuramente è un'iniziativa importantissima fatta tra l'altro in ricordo di un amministratore di Atripalda che è venuto meno qualche anno fa e che aveva una sensibilità ambientale anche prima di molti altri prima che si sia sviluppata anche in maniera collettiva. Quindi in ricordo di questa persona che si è spesa anche per iniziative di salvaguardia e tutela dell'ambiente è bene trasmettere ai giovani questa necessità che la tutela dell'ambiente e del territorio sarà una delle priorità dei prossimi anni, del loro futuro.